Il nostro compagno che da 105 giorni è in sopra della fame! Resta alto l'allarme sicurezza nelle città italiane dove continuano le manifestazioni a favore di Alfredo Cospito e contro il 41 bis. 105 giorni! Provate voi a non mangiare per 105 giorni! A Roma, dopo le tensioni dei giorni scorsi, sono tornati in piazza anarchici e antagonisti, uniti contro il regime carcerario più duro a cui è sottoposto il leader del FAI in sciopero della fame da più di 100 giorni. E proprio di fronte al Ministero della Salute, gli anarchici hanno organizzato un presidio in segno di protesta per le condizioni in cui versa Cospito dimagrito di 40 chili. Nelle stesse ore, un'altra manifestazione si è tenuta ad Ancona. In entrambi i casi presenti, gruppi anarchici insieme a quelli della galassia dell'antagonismo, un ricompattamento che ha messo in allerta il governo e che viene monitorato dalle forze dell'ordine, come ha dichiarato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Dalla riunione del Comitato Strategico Antiterrorismo, che ha il compito di favorire tra gli organi di polizia la condivisione delle informazioni sulle minacce interne, arrivano le linee guida per suggerire al governo il livello di allerta. Le forze dell'ordine stanno pianificando le giornate del fine settimana in cui sono previste manifestazioni a supporto di Cospito, in particolare a Milano.